Colpo al penny market di Foiano della Chiana, i ladri scappano con la cassa. È accaduto alle due al supermercato in via della Repubblica a Foiano della Chiana. I residenti sono stati svegliati da un boato che ha mandato in frantumi anche alcuni vetri. È accaduto tutto in pochissimo tempo. Una manovra che è servita alla banda, perché molto probabilmente erano in più di due, a sradicare la cassa e fuggire. Erano le 2.30 quando i residenti della zona sono stati svegliati da un boato. All'inizio si è pensato ad una spaccata, ma anche a una scossa di terremoto. In realtà la banda ha usato il gas, presumibilmente acetilene, per far saltare la cassa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ma l'azione dei banditi è stata velocissima ed erano già in fuga. A quanto risulta dalle testimonianze, per la fuga i ladri hanno utilizzato un'auto, forse una Toyota, di colore scuro. Il bottino della refurtiva è ancora da quantificare, ma dovrebbe aggirarsi intorno a qualche migliaio di euro. Ma sono ancora in corso le indagini dei carabinieri. Particolare e curioso, i ladri hanno scelto il supermercato. A due passi c'era una banca. Chissà se si tratta della stessa banda che prende sempre di mira supermercati e uffici postali. Su questo dovranno indagare i carabinieri.